La storica fabbrica di divani di La Terza, la Natuzzi, chiusura almeno per quanto riguarda la sede Tarantina. L'azienda infatti sta pensando alla delocalizzazione della produzione in Brasile, dove è aperto uno stabilimento nel 2010. Attualmente, oltre che in Brasile, Natuzzi produce in Cina, India e Romania, a rischio soppressione sono gli impianti in Puglia e in Basilicata. Questo significherebbe, in termini occupazionali per Taranto, mandare a casa quasi 2.000 dipendenti, su un totale di 2.700 lavoratori. A rischio licenziamento, i dipendenti hanno deciso così di presidiare ad oltranza lo stabilimento di La Terza, uno sciopero in atto da martedì. E in calendario per venerdì 28 giugno prossimo, invece uno sciopero, il corteo arriverà fino sotto gli uffici del governatore Nichi Vendola. Antonio Stassi, il segretario della filea CGL di Taranto, ha spiegato che la decisione va addebitata all'incapponimento dell'azienda, che si ostina a voler far tutto da sola anche in un periodo di crisi come quella attuale, che certamente non ha risparmiato il settore dei mobili. Nella nota, il sindacato lamenta l'assunzione di atti unilaterali e non condivisi con segreterie ed RSU, perfino sul calendario del lavoro dei dipendenti. Natuzzi è in ordine cronologico solo l'ultimo dei marchi della grande produzione italiana vittima della crisi. Nel primo semestre del 2013 i fallimenti delle aziende italiane sono aumentati del 13% rispetto all'anno scorso. Il caso Natuzzi rischia di pesare molto sull'economia locale già colpita dalla questione ILVA. Gli esuberi annunciati tolgono aria e respiro in una realtà sociale e produttiva già in pesante difficoltà.